Ciao a tutti e benvenuti su The FedAway. Io sono Federico e nel video di oggi vi spiego in pochissimi minuti tutto quello di cui avete bisogno per imparare il present simple. Come si fa, quando e come si usa e soprattutto vi dirò un modo per utilizzarlo che quasi nessuno conosce. Prima di partire però voglio fare una piccola introduzione su di me per chi ancora non mi conosce. Io sono Federico, vivo a Londra da più di 5 anni e ho un master in traduzione audiovisiva, una laurea in lingue. Lavoro nel mondo della traduzione da quasi 6 anni ormai e ho deciso di creare The FedAway per portarti valori insegnando l'inglese e condividendo i miei racconti di viaggio. Quindi se non l'ho ancora fatto iscriviti e in cambio avrai sempre contenuti al massimo della mia qualità e risorse che ti aiuteranno tantissimo nell'apprendimento dell'inglese o nei viaggi. Infatti se guardate fino alla fine vi dirò come scaricare in modo gratuito delle risorse che ho creato apposta per il present simple. Ok, fina, si parte. Quando si usa il present simple? Il present simple si usa semplicemente per azioni abituali o verità generali, quindi azioni che facciamo come routine o dei fatti. La terra gira intorno al sole e, scusate, terra piattisti. The heart revolves around the sun. L'acqua bolla a 100 gradi. The water boils at 100 degrees. Mi sveglio tutti i giorni alle 7 per andare a correre. I wake up every morning at 7 a.m. to go for a run. Forse è vero. Una cosa molto importante da tenere a mente è che il present simple non si usa per parlare al futuro come facciamo noi in italiano. Quindi stasera vado al cinema, non si dice I go to the cinema tonight, ma si dice I'm going to the cinema tonight. Come si forma il present simple? Il present simple è semplicemente la forma base di un verbo. Tutte le persone sono uguali tranne la terza persona singolare. Tranne in alcune piccolissime eccezioni che vedremo più avanti nel video. Facile no? Prendiamo un verbo. Play, giocare. Poi c'è anche la forma interrogativa e la forma negativa. Per fare la forma interrogativa e la forma negativa di un verbo bisogna conoscere e saper coniugare il verbo ausiliare do. Ve lo lascio qui. Mettete pausa al video. Imparatelo a memoria in 30 secondi. È facilissimo. Facciamo subito la forma negativa. Usiamo la persona, quindi I, you, she. Prendiamo una particella negativa di negazione not, più il verbo ausiliare do, e poi prendiamo la forma base del verbo. Mi piace, I like. Non mi piace, I do not like. Terza persona ha sempre una S. Non le piace, she does not like. O abbreviato, she doesn't like. Per fare invece la forma interrogativa si usa sempre l'ausiliare do, c'è un'inversione. Quindi do coniugato si mette prima del soggetto. Facciamo la terza persona. Una regola importantissima del present simple è che tutte le volte che si incontrano dei tipi di avverbi di frequenza, quindi spesso, often, usually, di solito, raramente, rarely, dovremo usare il present simple. 30 secondi di eccezione adesso. Il verbo più importante nell'inglese, cioè il verbo essere, to be, che è un po' diverso. I am, you are, is, she, it, is, we, are, you, are, they, are. Altre piccolissime eccezioni, sono veramente poche, sono che i verbi che finiscono in o aggiungono es, uno già l'abbiamo visto che è do, un altro è go, goes. Mentre i verbi che terminano y, quindi study, cry, aggiungono i e s, quindi si leva da y e si aggiunge i e s alla terza persona singolare. Mentre i verbi modali non cambiano, sono tutti uguali. Adesso passiamo a un modo di utilizzare il present simple che nessun insegnante spiega fino a che non si arriva a un livello avanzato. Parlando di dare enfasi a una frase, come coniugando il verbo ausiliare do e aggiungendo la forma a base del verbo. I study every day. I do study every day. Studia tutti i giorni. Quindi adesso, prima di passare al prossimo argomento di grammatica, è fondamentale riuscire a padroneggiare questo tempo verbale. E ho la soluzione per voi perché ho preparato una pagina di esercizi molto semplice, molto rapida, che potete scaricare dal mio sito. Andate su www.thefadeaway.com e nella sezione inglese troverete il materiale scaricabile per fare pratica con il present simple. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento se avete qualsiasi tipo di domanda. Mi raccomando iscrivetevi per avere altri contenuti di qualità. Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!